Roma. Giunge la delegazione dei parlamentari inglesi. È tra loro accompagnato dalla signora l'onorevole Douglas Brown, lo Speaker, cioè in pratica il Presidente della Camera dei Comuni. È questa la prima volta che una delegazione della Camera Britannica con lo Speaker lascia l'Inghilterra. Li riceve a Palazzo Giustiniani il Presidente De Gasperi per una colazione, al termine della quale affermerà il nostro vivo desiderio di cordiale amicizia e di consapevole collaborazione. Anche Sforza cordialmente li festeggia. Ore 9.30, dice il programma della visita, giro turistico della città. E la città, come se le avessero comunicato il programma, ha creato nell'umido inverno un giorno di primavera. A San Paolo gli ospiti hanno ritrovato il nome della loro cattedrale di Londra nella monumentalità della Basilica Romana. Una luce antica e fusa vibra tra le colonne, si diffonde sulla pace serena del chiostro. Piazza San Pietro. Intervento di sole e di secoli. Qui la pietra è divenuta solennemente affabile. Dice con gloria maestosa e accogliente l'universalità del cattolicesimo. Disse uno scultore negli anni in cui non eravamo liberi che le fontane a Roma erano le sole cui fosse permesso di parlare. Ora mescolano la loro voce nel coro degli uomini tornati a un sincero fraterno dialogo tra le nazioni.